Inaugurata questa mattina Palazzo della Ragione la mostra Festa a Corte, in esposizione 35 abiti del Rinascimento ricostruiti fedelmente con tessuti preziosi. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Qualcosa di insolito sicuramente e qualcosa di molto emozionante perché l'allestimento punta a trasmettere le sensazioni di un ospite nel tempo del Rinascimento del Barocco che entra in un palazzo storico e è ricevuto come ospite importante. Quindi una festa viene preparata per lui, in questo caso la festa a Corte è per i turisti, per le persone che verranno a visitare il Palazzo della Ragione. Sono scene ricostruite con un concetto che era quello che usavano i principi italiani nel Rinascimento, cioè stupire gli ospiti. Era questo lo scopo e lo scopo della mostra è questo. Una mostra in movimento perché gli abiti non saranno sempre gli stessi, cambieranno, se ne aggiungeranno altri. Unico punto fermo Vincenzo I Gonzaga, le cui feste erano famose in tutta Europa. Il Palazzo della Ragione, che parte con altri scopi e altri utilizzi, diventa nel tempo di Vincenzo il palazzo delle feste, lo trasforma lui così. Significativo tornare a fare qualcosa che si ispira alle sue feste con lui presente nel luogo che lui scelse per fare eventi importanti. Festa a Corte rappresenta per Mantua un'occasione in più per raccontare un pezzo della sua storia. Festa a Corte è una festa, una festa per la nostra città, è una mostra che ritorna dopo 40 anni a Palazzo della Ragione e per questo siamo molto contenti di ospitarla. Sono abiti meravigliosi che ci raccontano una storia della nostra città e che raccontano anche una parte di quello che è il sito unesco. Infatti la relazione con Sabionetta ovviamente è molto forte, alcuni di questi abiti e altri del curatore sono esposti anche presso Sabionetta e noi siamo molto entusiasti di poter offrire al nostro pubblico un motivo in più per venire a visitare Palazzo della Ragione. L'esposizione sarà visitabile fino al 9 di giugno. L'esposizione sarà visitabile fino al 9 di giugno.